Aquila 107 a base, l'abbiamo trovata, l'abbiamo trovata! Da bambino, Tad sognava di diventare un grande archeologo. Ehi Tad, hai trovato un tesoro? Non ancora. Dai Tad, tu non trovi mai niente. Sfigato. Anche se non aveva mai avuto fortuna, fino al giorno in cui il destino fece di lui una leggenda. Tirate giù quell'idiota prima che si faccia male! Beh, più o meno. Tu sei un operaio edile, non un archeologo! Stavolta ho fatto centro, me lo sento! Hai fatto un'altra delle tue scoperte? La scoperta! È solo una riproduzione, ma non smettere mai di sognare. Eagle Pictures vi invita a partecipare a un'incredibile avventura. Sto andando a Machu Picchu. Vengo anch'io. Con un gruppo di eroi molto speciali. Le avventure di Taddeo l'esploratore. Da aprile al cinema.